Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, sono Massimo del Maxibar, ok? C'ho giù la mascherina perché sono distanziato da tutti, come vedete, perché sono sopra la macchina mia. Sono sopra la macchina mia incatenato perché inizio una protesta contro tutti coloro, coloro che non si sono resi conto, che ci stanno a far morire tutti. Il 26 marzo è salito sulla sua macchina gridando lo stremo della categoria baristi e ristoratori. A distanza di un mese, in cui è rimasto tutt'altro che in silenzio, il 26 aprile ha esposto un cartello dove ha detto che è disposto a vendere un rene pur di salvare la sua attività. Non scherzava affatto. Erano in tanti a pensare che era una provocazione quando dicevo che volevo vendere un rene. Non era una provocazione, era verità. Poi ho saputo che non si può fare, ok, pazienza, allora rimane come provocazione. Sei diventato un po' il rappresentante di tanti tuoi colleghi. Perché? Perché? Cosa chiedete? Non è che sono rappresentante, io ci ho messo sempre la faccia e voi lo sapete come tanti altri. Poi invece al lato pratico, tipo il 27, quando c'è stata la manifestazione davanti alla regione, eravamo in 10. Invece dei 50.000, come mi aspettavo, eravamo in 10. Lo Stato non aveva un discorso di prevenzione sulla pandemia. Il piano pandemia non c'era. Quindi un tantino di responsabilità loro se lo devono prendere. Ci sarebbero stati sicuramente meno morti e meno attività chiuse. Sturani, che in queste settimane è diventato un megafono per tanti colleghi, ha anche condannato le recenti immagini di assembramenti in giro per l'Italia, che a parer suo potranno produrre un danno nei confronti di tanti altri lavoratori. Dare la possibilità a 30.000, 40.000 persone solo in una piazza, perché in tutta Italia potevamo aver raggiunto anche 300.000. Allora, 300.000 persone che fanno assembramento, fra 15 giorni non mi venissero le forze dell'ordine qui da me, perché io non c'ero e non voglio sapere niente. Io manco uno scorso c'ero, ok? Quindi fammi capire, da me non c'è venite. Risposte certe dallo Stato per aprire totalmente in sicurezza oppure chiudeteci e pagateci utenze e dipendenti. Sul futuro il titolare del Maxi Bar non ha dubbi. O apriamo in sicurezza, che come vedete io in plastica ce l'ho d'anno scorso, questi qua, più le sanificazioni e tutto il resto, che ci hanno fatto spendere i soldi. Quindi o apriamo in sicurezza oppure fateci chiudere. Un anno stavamo a casa, ok? Tutti a casa, però mi tenete in piedi. Luce, acqua, gas, dipendenti, affitto, ok? Tutto lì.